Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone si segnalano rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. A Firenze fino al 1 settembre lavori di ampliamento di via Panciatichi con divieti di transito sulla direttrice composta dalla stessa via Panciatichi e via dello Stecuto, chiusura anche per via della ghiaccia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!